Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto per Luigi Bersani, deputato del Partito Democratico, ex segretario, eccetera, eccetera. Buonasera a Beppe Severnini, dettorialista del Corriere della Sera. Andremo Bersani, in un anno lei è passato da presidente del Consiglio incaricato a figurante, come lei stesso si è definito in un'intervista di qualche giorno fa all'Avvenire, in aperta polemica ovviamente con Renzi, ma voleva dire che lei non conta più niente? No, volevo dire che non ho voluto fare il presidente del Consiglio a tutti i costi e neanche voglio fare il figurante a tutti i costi, tanto meno. Perché figurante? Ma così è un modo di dire, non voleva essere polemico o offensivo, ma insomma le riunioni quando si fanno, si fanno seriamente, capisco la comunicazione, capisco l'esigenza di trasmettere messaggi, ma chi è lì non può essere un messaggio incorporato. Che è la riunione, quella di venerdì scorso, in Vita da Renzi, dove ha messo quattro punti all'ordine del giorno, quattro ore, ma perché si è arrabbiato così? Tanto non ho mica capito bene, perché non si è arrabbiato? Ma no, ma non è quello, ma quello è stato, perché sento l'esigenza di discutere sul serio di qualcosa di fondo, e cioè noi facciamo un passo alla settimana, ma non sono sicuro che sappiamo su che strada stiamo andando, sto parlando di democrazia e sto parlando di lavoro. E' ora di fare il punto, è l'ora di discutere, di andare un po' a fondo alle questioni, perché abbiamo davanti un'occasione, la ripresa ci sarà. Ma e quindi lei cosa chiede a Renzi? Un convegno di tre giorni? Ma no, ma non siamo bambini dell'asilo qua. Io, allora, quando abbiamo fatto il famoso metodo Mattarella, le dico che sinceramente e veramente cerchi di favorire, di cogliere la sintesi che può venire fuori dal partito democratico. A volte basta anche tenere l'orecchio a terra e fare due chiacchiere con le persone giuste. Il metodo Mattarella è stato questo, non sono stati dei convegni, è la convinzione che il PD deve discutere davvero sulle scelte e poi parlare con gli altri. Questo mi pare il punto, ma questo fa bene al Paese, all'Italia come si è visto. È tutto lì, non è niente di strada. Tutto lì. Grazie a tutti